Sono le 21 e 28 minuti a Baikonur, 18 e 28, ore italiana, tutti col naso all'insù. Eccolo il momento topico, tanto atteso dal mondo, il lancio della Soyuz MS-13. Il lancio della navicella spaziale con a bordo l'astronauta siciliano dell'ESA, Luca Parmitano, quello della NASA, Andrew Morgan, ed il comandante russo, Alexander Skratsov. È stato salutato da un applauso dei presenti. Obiettivo approdare nella stazione spaziale internazionale. Alvia dunque ufficialmente la missione, dal nome evocativo Beyond in italiano, Oltre. Scelto da Parmitano, comandante della stazione, non a caso per indicare il desiderio di esplorare l'universo, di guardare ben oltre il nostro pianeta e di ampliare le nostre conoscenze. L'astronauta, nato a Paternò il 27 settembre del 1976, è il primo italiano ed il terzo europeo ad avere questo incarico e si prepara ad affrontare nuove passeggiate spaziali, quante per il momento non c'è dato sapere, dovrebbero essere cinque. Seconda missione di lunga durata per lui dopo volare, che nel 2013 lo tenne in orbita per 166 giorni. Sono stati giorni intensi in Kazakistan, ampiamente documentati dalle emittenti mondiali che hanno visto volare in Russia anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, che abbiamo sentito nel corso dei nostri telegiornali in diretta proprio dalla base russa. Per Naso, inorgoglito dell'invito, sono stati giorni emozionanti. Ha avuto anche il privilegio di incontrare l'astronauta paternese e parlargli attraverso un vetro che serviva agli astronauti come protezione da agenti esterni a seguito del periodo di quarantena. L'attacco alla stazione orbitante avverrà quando in Italia sarà circa mezzanotte e mezza dopo sei ore. Avranno un sacco di lavoro gli astronauti sullo spazio sino al 6 febbraio 2020, giorno di ritorno sulla Terra. Dalla realtà virtuale agli esperimenti di guida telerobotica sino al monitoraggio di radiazioni ultraviolette ed esperimenti di fisiologia umana. Uno degli esperimenti attesi è Analog 1, un tentativo per prepararsi alla manovra di rover sulla superficie lunare o marziana. Dunque, la nuova, affascinante avventura spaziale è ufficialmente iniziata. Difficile trovare una data più iconica di quella odierna per una partenza alla volta dello spazio, proprio il 20 luglio del 1969, 50 anni fa. L'uomo metteva piede per la prima volta sulla Luna. Quel romantico satellite che è anche il prossimo obiettivo di Astro Luca e verso cui il noto paternese farà recapitare un invito per un futuro brindisi al chiar di Luna.